Sempre con un sostegno, allora il mio assoluto risponde sempre presente a queste esigenze del nostro territorio. Sicuramente sì, è da oltre 11 anni che Ibradi e Bimitrondo investe in cultura, scuola, soprattutto sui giovani. Oggi siamo qui a presentare la nuova stagione tatrale e quindi questo rapporto di collaborazione con l'amministrazione comunale di San Benedetto che oramai è da oltre 2010 che portiamo avanti, anche quest'anno questo sostegno importante che il Bimitrondo dà a una progettazione e a sette serate che comunque hanno messo in piedi importanti e quindi dà un valore ancora non solo a San Benedetto ma a tutto il territorio e anche dell'area verso la costa. Quindi il Bimitrondo è sempre presente su progetti, come dicevo prima, di carattere culturali ma che abbiano in pratica una valenza importante e una ricaduta su questo territorio. Grazie. Grazie.